Ho trascorso le ultime 48 ore a smontare e rimontare completamente la scrivania Non intendo il mobile, insomma, non questa scrivania che tra l'altro mi porto dietro ormai da forse sei anni e almeno un trasloco Ormai un pochino ha stancato però insomma continuo a tenerla perché finché c'è, finché funziona, non trovo la necessità di cambiarla Ma ad ogni modo quello che ho cambiato in realtà è tutto quello che ci sta sopra E sì, è cambiato anche il computer perché è arrivato quello che vedete qui, cioè l'iMac 27 pollici del 2020 Vi avevo preannunciato di averlo ordinato da C&C, l'ho preso a noleggio, poi ve ne parlerò di più nella recensione che uscirà quanto prima Anche se mi è arrivato in realtà praticamente ieri, insomma, quindi non veramente ancora tanto tempo per testarlo Quindi sicuramente vi devo chiedere di pazientare almeno un altro po' Per chi fosse interessato ho preso la versione con i9 e la 5700 XT, insomma, quella più potente al momento Tanto è a noleggio, la differenza tra l'i7 e la 5700 non XT era veramente poco nella rata Per cui ho pensato una volta che c'era, insomma, di testare il meglio Anche perché vengo dall'iMac Pro che comunque è una macchina abbastanza performante Comunque non è questa la recensione dell'iMac, quindi non continuiamo a scendere nel dettaglio da quel punto di vista Perché oggi voglio parlare di un altro prodotto, ovvero questo, cioè il 12 South iRise Pro Ora, questo dispositivo, che in realtà esiste da parecchio tempo C'era prima una versione non Pro, che tra l'altro era in tinta con l'iMac Mentre questo è grigio siderale come l'iMac Pro Infatti qui vedete una piccola differenza cromatica tra il computer e questa specie di supporto, diciamo Che comunque non mi dà particolarmente fastidio E che, meno male, io avrei evitato facendolo completamente nero Un bel nero opaco, onestamente mi sarebbe piaciuto di più Comunque, a parte il discorso cromatico, che insomma lascia un po' il tempo che trova Il prodotto in sé mi è stato davvero molto molto utile Infatti io avevo prima disseminati sulla scrivania tantissimi elementi Perché utilizzo per necessità collegati direttamente al computer 4 hard disk più un set ride collegato direttamente Quindi non un set di rete ma USB Più la scheda audio, più l'UPS che mi serve per verificare quando va via la luce e far spegnere automaticamente l'iMac Più, non so che, un lettore di schede SD Un lettore di schede CFexpress Un lettore di schede XQD Due dock per avere delle connessioni aggiuntive sul retro E alcune sul frontale che mi sono più comode Insomma, veramente tantissima roba collegata che chiaramente bisogna in qualche modo allocare Ora, per quanto possa sembrare strano In questo momento tutte le cose che vi ho elencate Tranne una, che infatti non ho elencato perché adesso l'ho dislocata un po' distante con una prolunga Sono su questa scrivania E lo sono in gran parte grazie proprio all'iRise Pro Ora, questo aggeggio che come potete vedere ha una copertura magnetica Che tra l'altro è di faccia Nel senso che volendo si può anche utilizzare con il frontale con questo effetto legno Che però qui non matchava da nessuna parte Quindi l'ho mantenuto con il colore grigio siderale Ha all'interno quattro posizioni per inserire un supporto Su cui effettivamente poggia il piedistallo dell'iMac Dopodiché si può, nello spazio residuo, andare ad allocare degli altri dispositivi Ora, si può usare in diversi modi anche semplicemente per poggiare qualcosa all'interno E ovviamente l'effetto che ha è anche quello di sollevare lo schermo dell'iMac Ora, questa cosa in realtà io la cercavo perché ho notato che effettivamente con lo schermo di questo computer Tendevo ad avere una posizione un po' così gobba Perché effettivamente secondo me è un po' troppo basso E purtroppo sappiamo che il piedistallo non ha praticamente nessuna regolazione Insomma, si può soltanto inclinare in verticale ma non risolve il problema dell'altezza Per inserire all'interno entrambi questi dock nella parte bassa Ho dovuto posizionare la base su un livello che è il terzo Qui un pelino troppo elevato Avrei preferito averlo uno scalino più giù Devo dire che per il momento ho fatto una prova E questa altezza in realtà mi porta ad avere una postura forse migliore Quindi mi voglio dare qualche giorno di prova Per capire insomma se il risultato in effetti è anche abbastanza ergonomico Per quanto riguarda le connessioni che sono riuscito a gestire Avendo questi due dock collegati con una sola porta Thunderbolt Perché poi il secondo va in cascata rispetto al primo Ho avuto a disposizione ovviamente delle porte in più sul retro Le porte che non uso sono tante comunque Perché in realtà ci sono su due dock Due porte Ethernet Due porte DisplayPort In questo momento non ne uso nessuna delle due Perché mi sto diciamo cercando di adattare all'uso di un solo monitor Ora perché l'uso di un solo monitor? Perché questo schermo che è quello con la nuova tecnologia Nanotexture Mi ha stupito in maniera molto molto positiva Ora non ve ne voglio parlare troppo nel dettaglio Però vi assicuro che è qualcosa di completamente diverso Sia rispetto agli schermi lucidi Che rispetto agli schermi opachi tradizionali Infatti quello che utilizzavo prima Un ottimo BenQ Che ho recensito Ve lo lascio linkato da qualche parte qui sopra Non ha assolutamente la stessa resa E già quello era molto molto buono Ma questo sembra veramente di guardare carta stampata Approfondiremo poi nella recensione Per tornare all'iRise Pro Devo dire che è costruito davvero molto molto bene Ed è abbastanza intelligente Perché poi sul retro ha una serie di aperture Per andare a gestire i cavi Ora io in realtà ho avuto un po' di difficoltà Per sistemare questo setup Perché prima sulla iMac Pro Utilizzavo tutte e quattro le porte Thunderbolt 3 Che qui non ci sono Ce ne sono soltanto due Quindi ho dovuto un po' riarrangiare le cose Ho dovuto cambiare dei connettori E tra l'altro ho dovuto anche aggiungere Un hub USB, USB normale Perché su quello ho potuto indirizzare Le porte USB-A aggiuntive Che ho impegnato cambiando i connettori Da USB-C o Thunderbolt 3 a USB-A Quindi è stato un po' un accrocchio Tra l'altro questo hub L'ho appiccicato sul retro Con il via adesivo del 12 South iRise Pro E devo dire che questo mi ha concesso Un setup che è apparentemente davvero molto molto pulito Ho cambiato anche l'asta per il microfono Ho preso quella di Rode In realtà ce l'avevo già La utilizzavo su un'altra scrivania Però questa non mi è mai piaciuta particolarmente Non mi piace ancora ora Perché non torna più indietro di così il microfono Mentre certe volte vorrei toglierlo insomma dalle scatole Con questo non è facilissimo Perché va poco all'indietro Ma parecchio in avanti Comunque nell'insieme devo dire Come primo approccio mi trovo abbastanza bene Quello che dovrò capire poi è se riuscirò a lavorare con un solo monitor Cosa che onestamente dubito Ho comunque provato anche a utilizzare come secondo display temporaneo Un iPad Pro Con la funzionalità sidecar dei nuovi sistemi operativi Non sembra andare molto male Anche se io ho la versione da 11 pollici E ho notato che per esempio la preview in un montaggio video Chiaramente non è così più grande di quella che vedo Sullo schermo Anche se è una porzione della finestra del software di montaggio video Nel mio caso Resolve è quello che utilizzo principalmente Insomma il prodotto 12South Airize Pro Assolutamente promosso Insieme anche a quello che uso sul retro Dove posiziono 4 hard disk di piccola dimensione Tra l'altro quello è un prodottino che mi porto dietro ormai da tanti anni Ogni volta che cambio computer lo riadatto perché è sempre sempre molto molto utile per fare sparire i cavi Anche quello di 12South vi lascio il link di entrambi i prodotti in descrizione qualora vi dovessero interessare Ora riposiziono anche la parte frontale come vedete calamitata molto molto comoda Ovviamente quando ho necessità di accedere alle porte frontali devo toglierla e metterla da parte temporaneamente Però non è un grosso fastidio perché alla fine ho la possibilità quando non uso quelle porte aggiuntive Di avere un insieme assolutamente pulito ed è una cosa che personalmente preferisco In questo periodo sono uscite tante novità interessanti da seguire Sicuramente la principale è quella che il 15 settembre ci sarà un evento Apple Lo seguiremo anche in diretta video Vi lascio informazioni poi appena disponibili sia sulle storie qua su YouTube Sia su Instagram assolutamente seguite il nostro account E ovviamente anche sul sito saggiamente.com Con questo è tutto, alla prossima Ciao ciao Ciao